La carica di sindaco ha messo a cura di valutaggio il maggior numero di voti pari, e cioè il numero 6.435 voti pari, alle ore 17 del giorno 22 giugno 2015, il programma eletto alla carica di sindaco del comune di Piezani, il signor Pompeo Montes. Grazie a tutti. Grazie.